Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, tutti sembrano un ubriaco oggi. Sono DC per 98 e sono in compagnia di Canivore Exynor e... No, non è vero, io non ci sono, è soltanto l'immagine riflessa. Questa è un'allucinazione, questa è la sua voce, non sentite nessuno, questo è... No, non c'è nessuno, è sovrapposta questa parte. E poi c'è Fairlaneon Fox, nero di turno. Io ho il gioco di solo, la prova. Hai un iscritto in meno. Domani c'è un 10 in più, quindi... No, tu me ne ho fai, no, 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 questo adesso, fermi tutti. Fermi tutti, neri. Ok ragazzi, state assistendo ad un... Andiamo avanti, andiamo avanti. No, non ho mani, che stai facendo? No, non ho mani, che stai facendo? Sto stappando. Sto stappando. Come esce, esce, prendo... Mi prendo mana, mi prendo mana per mondo. Ega, come si gioca Mastery sulle Aram? Non si gioca. Allora, tasto destro, tasto destro, tasto destro. Ok, ecco il risultato. Nooo. Questa straiva. eheheheh AAAAAAAH bezzissima la parte tua e allora la tua esperienza dai ma anche il trucco di scherzo AAAAAAAA ah raga basta mi prego AHHHH ahhh AHHH persa farà a te, puoi capire? e questo è tutto in mezzo aiuto, 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 scherziamo devi morire aiuto aiuto oh no il treno regio express 20.94 di treno per milano centrale delle ore 8.36 è in partenza dal binario 3 oddio ergo potevi bloccarlo col muro però non c'è stato guardate quanto c'è di vita oh no no non è che tu guarda il muro prendi la ruola del centro raga che oggetti mi devo fare il frammento di infinito cosa? sei tu, Mastery no tu devi fare la full AP devi andare no 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 tu sei AP devi non è vero non è vero non è vero non è vero sei un assassino sei no assassino un tanto che cosa? ok mi sta trovata no ma dai no 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 dai non è vero sto scherzando ma non dico che scherzarai no non scherzo mai dai no certo mi devo fare nemmeno devo venire a cercare devi fare attacco fisico velocità d'attacco e io che devo fare? come cioè la lava del re che che devo fare? un tanto non lo dico un tanto non lo dico un tanto un tanto un tanto un tanto D'Avina Cristo D'Avina no 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 non scherzavo non lo slow non ti preoccupare no ochio alla ochio allo passiva a te suippet fuiste a mort no io non potete fare guai questo è lo ho scarso nip a nip a muori 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 no 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 andrei a morire tu io si no 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 scherziamo 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 aiaaa no 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 ho bloccato la ultimate di fin si lo ho pregato no 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 oooox non c'è arrivato di uccidere fiddlestick oh alleluia per arrivarci sai e l'ha preso e sarei stato capace schizzo perché hai cominciato senza tetto intanto non mi serve oh ma così fiddlestick 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 mi sto spaventato è arrivato un cannone di minione addosso a me no attento al soldo per sabbia c'è una squerza oh bel dodge bellissimo per prendere una runa salvarmi da io no io l'ho usato io l'ho fatto per saltare addosso a dj fire ah per caso no 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 ma tu non è che puoi stare sempre dietro a tutti e non attaccare mai cioè devi essere un po' ma dai fai puoi 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 non so mai quindi sono primati è stato bravissimo questa cosa io non sono morto mai neanche io il treno regionale 24 8 1 9 di trenzaia per venezia santa lucia delle ore 8 e 42 è in partenza dal binario 8 ferma in tutte le stazioni e e e e e e e e fatti e e perchè se non quel posto di pesantezza come un treno come un mondo non si può sentire aiuto 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 a ah no, 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 no! E tu a cosa se stai solamente farmando con gli attacchi in base? L'accuse, la metto! Vai che babbaro, vai che babbaro, vai che babbaro, vai che babbaro! Vai che babbaro! No, che babbaro ce l'ho contro! No, fermi, fermi... Ma che fermi! Ma sai che hai detto che babbaro ce l'ho chiusa? No, che babbaro... Ha detto ce l'ho contro... Ah! Ce l'ho contro! Nooo! Oh Dih, è vero, con un'altra passiva! bravo bravo oddio ii, oddio mettici una canzoncina di questo e mi f***a che guardo due assist sei il support quindi ma non è vero hai anche l'item ho utato... no c'è un certo no oddio mamma io sto morendo dove va il mio dove va il mio è morto il montaggio per favore un rallentatore io comunque devo fare battaglia cosa devo fare? io muoio fatti tank fatti attack speed attack speed regavano tank vabbè allora io vado tu tankri io faccio la riguardo il mondo deve andare attack speed e danno tu devi andare tank è critico odia le torri di azzirlo 24 assist sei il support ma non è vero c'è il volto della montagna no non è vero tu devi fare la stessa build di mondo e vedi che ti fai ai 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 fa male vedi che fa male mondo mondo fa quello che vuole mondo ok faccio tutte le vuole raga io mi faccio l'orgoglio di rango va bene no 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 si 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 ottimo e se no mi faccio il ginocchio dell'uomo muo ginocchio ginocchio sembra un ginocchio perché cosa è il nuovo oggetto delle classificate il ginocchio dell'uomo muo si lo devono tradurre tradurre in italiano diversamente f*** fammi fare le kill tu sei il support ma pure tu ci metti 30 assist io sto 4, 12, 16 rega yeee sono 4 killer mi fregono la runa ma stiamo scherzando tu sei un pro playa pro playa pro playa pro playa pro playa sono a livello 40 su league of legends non roffi il cazzo sei challenger no l'unico al mondo che sei a livello di cazzo ecco vedete quanto sono da unico al mondo chi sa come macchia no 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 quello ulti mi scappa la cazzo vai vai mastery auto attacca continua no va si continuo continuo si di si ah dai ce la puoi farcela dai ti fisce in diretta sei bravo batterica bravo bravo il mio battero voglio fare la penta la penta non è mia la penta avevo la silenzità oh si di Mundo certo come no ho capito di muniz Fai la penta, fai la penta Bravo Sono rimasto intrappolato qua Rivali, io non ti aiuto Ma regà Cosa mi compro? Cosa mi compro dopo l'orgoglio di Ralvin? Il martello di ghiaccio Oh, è giusto Oh, è giusto No, non è vero Io, aiuto Addio, mondo No, sì, addio, mondo Dai, mondo, girati e fatti una pentagill pure tu, dai Di che arrivo in mondo, se ne segui No, non ne credo mai Perché sto Io prendo la sua di nuova Vai, 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 vai Ok, adesso dove scappo? Aiuta, Lux, aiuta, Lux, dagli uno scudo a me Fatto Recort, bravo Io mi prendo penetrazione magica Lo so che ti dico Oh, oddio In effetti è l'unico oggetto che potrebbe leggermente appare su un motore Leggermente? Leggermente, giusto Un pochetto Regà, aiuto, regà, aiuto Non si fa però potrebbe staccare bene Regà, aiuto Regà, aiuto Regà, aiuto Regà, aiuto Divento vulnerabile E la voglio stranchio se divento vulnerabile Sì, tu devi fare tutto il suono Che bello, abbiamo perso Attaccati, attaccati Attaccati Ma cosa? Abbiamo perso Bellissimo, ragazzi Eh, l'abbiamo perso ovviamente per... Per Braum Che c'è una buona build Non era buona quella build Fareva ovvio comunque Ti voglio vedere le statistiche ti dà un nuovo Spero vi sia piaciuto questo video Continueremo con la serie di Club Legend Arm E alla prossima Da DJF98, Calivor, Exilor e Stefi295 Ciao 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 Ciao